è grande anche se un po' caotica ma no poi è più bello c'è meno da muoversi trovo il tutto subito e comunque chi ha c'è una sfiga immenza in effetti meno male che non ti ho ucciso ti stavo a dire avevo percezione attiva io vedo tutto rosso capito ecco il sacchetto della spesa ma poi stavo rincorrendo uno attorno all'auto e ci ho messo un po' a capire che era Alex comunque si sono spawnato di fronte al coso delle mappe e tanta roba ciao Jenny dimmi ah ok che bello mi hanno lasciato lo spray Alex ho quattro spray e se serve non ci ho letto del gelight non ci dà l'accounti rapido sei tu con la batteria non ci dà l'account Alex sei tu con la batteria si 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 sto andando a metterlo ok si mi hanno tolto non ci dà l'accounti rapido però mi hanno messo la baguette in plus e quindi ce l'ho inchinito ah ok perfetto quindi mi bandano la cauca mi distruggono mi cancellano oh qua c'è una cosa eh l'ho visto prima oh qua c'è il fusibile ottimo ma la casa o hai trovato il fusibile proprio? no no c'è la cabine di da riparare col zellino chi è che si è intrufolato a casa mia? tanto Chiara è impegnata con Jedi quindi possiamo fare con i cali ah brava Chià si barrica barrica grazie stavo controllando i cassetti Tommy Jarvis eccola la radio ragazzo chiamando il ragazzone c'è un ragazzo che è forciuto chiamando sui per me chiamando sui per me addirittura ah 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 Jason è qui quello che già serve è trappola eh si cosa mi ha distrutto tutta la casa di Chiara ah Chiara ti serve una mappa? no c'è l'ho ah perfetto ah Alex tu dove sei? io sto andando a mettere la benzina e la macchina a due porti che poi mancano solo le chiavi che sono lì che una no che sono lì? col cazzo dove sono? dove sono? no io sono tutto giù chiara ce la fai a prenderle scusa con le chiavi? si a me non corre più questa no lei ha già preso questo qua mi sa no no sono ancora lì su 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 qualcuno la prenda io non posso correre ah questa Vanessa mi sa che c'è anche lei le chiavi bene le chiavi brava Chiara sono dietro di te io eh si no ma no no questo qua ha preso le chiavi adesso sta prendendo lui la macchina si l'ha avviata dai io buono però avviate il tifo è un malgono è un malgono è un malgono se Alessandro riesce a scappare diventa lui Tomo è un malgono è un malgono la macchina dov'è? no sta tornando cazzo se fosse andato dritto il genio saremmo scappati via subito guarda si è bloccato anche se è bloccato no no però mi avrebbe potuto salvare la vita bastava andare dritto invece il cretino la gira oh no era Chiara con la batteria mamma mia allora ci vorranno altri due anni per metterlo ma tu sei lo stradone Fusibile 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 a terra raga Fusibile a terra chiamate polizia ah no prende la Chiara ok dove stai? dove stai? dove stai? no vabbè il tipo con la macchina è un rimbambito non per dire aspetta che pesa? desidera rubare il blocco chi avvia l'auto io sono allo stradone eh no non proprio manca la benzina e li puoi rubare l'auto quello la l'ha bloccato ah no sta scappando di nuovo vabbè ci serve una benzina chi sei tu questo Alex? no non hai il maglione non sei tu non mi prendi non mi prendi a macetate sci sci a parte che ho quattro strade questo perchè siamo a seguire la macchina non sai che sono annossi non è possibile che non caga la macchina si lo sai che mi voleva far salire a me non ti voleva far salire? no mi voleva far salire no mi ha investito brutta merda mi ha investito mi ero lì davanti con la luce accesa eh se adesso li metti tu Tommy lo facciamo fuori poi vediamo se se si diventa ancora cristo eh dipende speriamo non hanno ancora spawnato Tommy? no 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 oh ce l'ha pure con te eh con Alex eh sono io Tommy haha eh mo son cazzi e mazzi amari anche cerca il macete si almeno li troviamo alla macchina aia figlio di tana vado ragazze non vedi più il forno ahah cazzo cara esperta e niente non è vero scemo Oh Alex ma io allora lo colpisco da dietro o da davanti Jason dopo che lo stordisci? Devo colpirlo alla schiena e poi da davanti prima di Jason Ok Però dobbiamo prima cogliere la maschera Sì sì, sto cercando... vabbè c'ho il fucile intanto Lo mollo Allora sì sì, ma allora... Tu hai trovato un macete? No, sono quello di cazzo o quello che già pianto? Eh, volevi? La maschera ce l'ha ancora? No qua dentro... Ce la fai a trattenerlo ancora? Vieni vieni, vai nell'altra casa quella in alto, che di sicuro là c'è qualche arma lucide Qual è la casa in alto? Questa è il fucile? Quella dove sei andato tu? Sì 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 Che è che mi sta riempendo le chiamate? Che palle di stalker Dov'è che lo vedi il macete? No, è uno che mi perseguita ogni giorno con le chiamate Io ho due stalker che mi rompo Scusa Alex, dicivi dove è il macete? Aspetta Aspetta Ah, qua c'è un'altra ascia Ecco Vieni vieni Dove? Vieni vieni Lì sull'armadietto Ah ok Eh io non so più arma però Eh Devi scappare No Cubo Ok quando vuoi eh Sì sì no ma Dov'è ancora la maschera Ancora qualche Oddio la trappola Sei in merda Se gli dai un colpo la maschera cade in teoria Io? Io non ci puoi portellirmi adesso Sì sì Eh vedi porca puttana No Perfetto 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 Devi darmi un colpo in qualche modo e Ok non ho più niente se mi afferra è la fine Raga Dove sei? Dove sei? Vieni Aspetta Tolpiccino allo schiena vai 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 vai.... Oh ah po' meno male Eh ce l'abbiamo fatta SAC A lui e al suo amico No però levatevi Vieni levate li Stavolta l'ha ucciso io 6 Grande l' Alex Ah non se la fregava questa Non se l'aspettava Alla faccia sua di merda Brutto cornuto Così impara a non fare alleanze con gli altri Contro di noi Va bene Mi spingo che vado Se poi stanotte non torno tanto tardi Se c'è qualcuno Io non lo so dove ci sono Io tornerò a disposizione No, non è vero Non sai che il sabato non si sono accassumato Sì, è vero No, non è vero